ma se la camera è lontana come faccio ad ascoltarmi o tiro un cavo lungo 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 o faccio l'ascolto e poi spero che tutto vada bene oppure devo trovare un'altra soluzione io detesto i cavi e allora mi sono detto proviamo a cercare una soluzione adatta per poter avere l'ascolto durante la registrazione ed ho trovato il modo praticamente di avere l'ascolto usando queste queste sono dell'airpod fake diciamo un po pezzotte come dicono i miei amici di giù e vedete le ho collegate alla camera che mi sta registrando attraverso che cosa semplicemente un trasmettitore bluetooth di discreto livello della impau che ho collegato all'uscita jack delle cuffie ora devo dire che con questi airpods un pochino di ritardo c'è e un pochino da fastidio forse bisognerebbe abbassarlo un pelo magari riesco proviamo facciamo un tentativo io così ho risolto tra l'altro con queste che sono delle cuffie mpow da poche decine di euro collegati con il trasmettitore bluetooth che è della stessa marca si arriva ad avere un lag cioè un ritardo veramente minimo infatti per me è una soluzione fantastica perché quando devo registrare con la camera a treppiede che magari non è facilmente accessibile e devo anche ascoltare devo avere l'ascolto se io posso usare il sistema bluetooth con un lag ridotto io posso essere anche lontano dalla camera per esempio altro esempio di utilizzo è con un gimbal gimbal con il microfono a quel punto diventa molto interessante perché non ho cavi che girano che sbilanciano magari la camera sulla subito sul gimbal ma ho comunque l'ascolto tutto qui ciao